fratelli nero azzurri amici di facebook youtube e instagram buonasera a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale buon lunedì e ne dovevo parlare già ieri e anche stamattina ma insomma stamattina non era il caso perché c'è stato un bel video sfogo ma oggi è doveroso parlare di un grande cuore nero azzurro il mio primo mister il mio primo mister della mia prima inter con i miei primi idoli e questa è la prima sciarpa adesso però la mettiamo al collo e quando segnava calle si alzava alzavo la sciarpa quando ero piccolo la tenevo al collo e iniziamo andare allo stadio questo è il mio primo libro chi è scritto al canale lo conosce a memoria quindi inter 84 85 in panchina proprio lui ilario castagnar quindi una notizia brutta perché lui e lui e questa inter che 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 mi hanno fatto innamorare di questi colori e mi ritrovo adesso qui a parlare con voi ormai da anni sui social quindi una una grande perdita per quanto mi riguarda perché è partito tutto da quell'inter lì l'inter di di spillo l'inter di altobelli l'inter di walter zenga che era da poco diciamo subentrato a a bordon era una bella inter che che non ha vinto nulla io c'ero con la famosa partita inter al madrid con papà 3 a 1 poi doppietta di tardelli se non ricordo male poi lì è andata come è andata però insomma c'ero a inter glasgow quando quando hanno un lato il gol a cali proprio a cali il gol più bello credo che che io abbia mai visto dal vivo perché quello di giorka f non ero dal vivo con la c'è non l'ho visto dal vivo con la roma è annullato però è sempre lo stesso anno inter 84 85 sempre l'anno del libro quando è cominciato il mio amore una splendida mezza rovesciata volante contro il torino quindi ho tanti ricordi di quell'inter lì anche se se ero piccolo poi chiaramente siamo arrivati all'inter di di trapattoni con lo scudetto e lì poi eravamo praticamente tutte le partite tutte le partite a san siro però però io di quell'inter di di lario castagnar di ernesto pellegrini insomma per nesso pellegrini e insomma calle rumenighe era veramente il primo grande acquisto di quella presidenza io vi ho sempre detto che mi ricordo che un po da piccolo mi ricordavo questo avvicendamento fra i soli pellegrini con le lacrime di vanoè fra i soli e quindi c'è in alto tutto da qui se io adesso sono con voi a sclerare incazzarmi a gioire insomma tutto quello che 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 ne consegue è perché è nato tutto da qui ed è nato proprio da mister ilario castagnar e gli mando un saluto guardaci da lassù mister seguici da lassù il video lo continuiamo con la sciarpa con la sciarpa dell'inter ragazzi allora intanto è sceso anche derby è sceso allora poi alla fine ragazzi alla fine una piccola chicca una piccola chicca un mio video un estrapolato di giugno giugno 2022 perché poi alla fine fanno tutti i fenomeni però poi se vado a ricordare cosa si diceva e si scriveva giugno ma ce lo teniamo per la fine ce lo teniamo io quello che volevo vedere con voi visto che visto che ci siamo nel senso siamo in in antivigilia siamo in antivigilia di interporto quindi champions league ragazzi a sto punto col napoli guarda dov'è questo a tutti gli effetti chiaro che la coppa italia c'è più la portata però questo è l'impegno insomma più più importante che hai no quantomeno provare a superare un ostacolo tosto come come il porto assolutamente da non sottovalutare questi sono gasati gasati a mille da quello da quello che è arrivato dal portogallo e la nord spinge con un comunicato col porto in 80.000 in campo con l'inter siamo pronti siamo carichi coreografia tamburi e megafoni per guidare lo stadio intero è ora di suonare la carica tutti insieme col porto tutto lo stadio deve essere curva nord niente distrazioni lasciate a casa lo spirito bauscia e tirate fuori il furore di cui siamo capaci quando sappiamo far battere insieme i cuori nero azzurri dentro ognuno di noi una partita che vale tanto una partita che vale tutto avanti inter avanti interisti noi vogliamo questa vittoria il tutto condito dalla foto della coreografia proprio se non ricordo male cos'era col plizen combatti comunque coreografia di champions combatti combatti tra l'altro una coreografia che dobbiamo ancora vedere sul canale e che sto preparando assieme alla coreografia di inter napoli come vi avevo promesso ragazzi quindi ci siamo ci siamo insomma tocca a noi adesso in champions e il milan comunque il suo l'ha fatto ripeto meritava pure di più perché totale non ha fatto un ghezzo di niente ma vedremo a ritorno adesso tocca a noi adesso tocca a noi e chiaro oltre alla spinta del pubblico che ci sarà non è mai mancata ragazzi di cosa stiamo parlando anche con l'udinese 71 mila persone voglio dire ormai la media è quella e in coppa in coppa ecco ritornando magari fine anni 80 quando iniziato andare allo stadio io no c'è metà anni 80 fine anni 80 e poi primi anni 90 secondo me in coppa quindi parlo di coppa uefa coppa dei campioni ho visto inter malmo e me c'era lo stadio con papà primonello arancio ma è andata come è andata siamo usciti al primo turno e la sud se non ricordo male al derby successivo ci fece lo striscione edulo e il malmo una cosa del genere la coppa dei campioni con la cosa svedese la svezia lì che cazzo era non mi ricordo con le ali insomma vedete voi cosa mi vado a ricordare che coreografia e se andate a vedere era così era quindi il clima era tanto bello e chi è matusa come me può dirlo che il clima europeo era molto molto bello rispetto al clima di campionato arrivavano inter club da tutta l'italia adesso sembra sempre un clima europeo c'è adesso una media pazzesca san siro sempre sold out quello che chiede la nord è un quel qualcosa in più cioè deve essere proprio un catino deve diventare un catino bisogna riuscire a tirare in mezzo 70 mila persone partita fondamentale serve l'approccio lo spirito giusto non bisogna concedere un centimetro la partita perfetta bisogna fare perché non c'è più gol andata e ritorno gol fuori casa cazzi e mazzi quindi fai la partita perfetta cerca di fare più gol possibili contro una squadra che è vero che sulla carta è abbordabile rispetto ad altre comunque è tosta e non è e non è assolutamente da sottovalutare ma domani domani che siamo in vigilia e ne parleremo ne parleremo ancora ancora meglio io volevo chiudere non è dissing assolutamente però volevo chiudere con questo lo chiudere io capisco che ti farò ancora i complimenti perché a 100.000 te li avevo fatti te li rifarò anche a 200.000 io capisco che ne mancano due o tre mila manca poco al traguardo però porca tra vedete quando io poi mi incazzavo che adesso ci sono i juventini che ce l'hanno con chi dicono che sono le chini no quando io mi incazzavo che poi adesso ho molato il colpo perché tanto ho capito come però vedi cioè le cose poi ogni tanto vai a vedere non è che cambiano perché il napoli vince 2 a 0 possiamo solo ammirare questa macchina questa macchina volante va bene va bene melo il milan vince 1 a 0 la decide il messias ecco la s non è dissing cioè voglio dire sapete di chi sto parlando non voglio insultare nessuno però poi l'inter vince 3 a 1 vi prenderei a sberle e poi aspetta dulcis in fondo ho dovuto scrinciottare che non ci credevo non ci credevo ave di maria spezia juve ave di maria e la roma una guerra vinta da 11 gladiatori cioè questo interista è no perché qui si arriva poi al discorso a darmian darmian quanti gliene ho dette no questo interista e fast i titoli poi all'inter che vinci 3 a 1 con le difficoltà con il vero cacarsi sotto in certe situazioni ma vinci 3 a 1 vi prendere a sberle questo per ripetere che preferisco 7 mila gladiatori come me è piuttosto che avere tanti tifosi ecco ci reciro la lazio vince cioè queste cose qui capite e quindi tutti vanno lì poi quando io dico qualcosa e mi dicono no ma lui sì che è sportivo è grazie al cazzo vi dice quello che vi volete sentir dire e lo dico da anni ormai il gioco è quello però mamma mia mamma proprio i titoli ave di maria un interista che scrive io non ci voglio credere per arrivare al discorso di ad armian darmian cos'era il discorso la chicca finale perché anche lì come darmian tutti i giocatori sfanculati a prescindere dove su questo canale si è sempre detto no aspetta attenzione perché potrebbe essere che così 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 e poi le cose insomma sono andate poi così darmian darmian adesso la gente dice ma forse ho detto una cazzata su mickey mickey su mickey tarian ma quante ne abbiamo sentite a giugno dell'anno scorso io ci ho messo adesso vi vedete un minuto di estrapolato ancora dovevamo ufficializzarlo ma era vicino ok perché adesso è facile dire grande mickey tarian grande l'armeno corre come un treno il cazzo il cazzo perché mi ricordo tutto quello che è stato detto a un pacco dalla roma a zero ce lo regala è rotto e vecchio ma di che cazzo stiamo parlando quindi adesso fanno tanto i fenomeni sto parlando in generale qua anche di gente che scrive attenzione ne ho letti di post su mickey tarian parlo in generale prima era rivolto a uno e sapete a chi ma qui parlo in generale proprio quindi mickey 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 a chi a chi già credeva in te chiaro non mi aspettavo una continuità così di di prestazioni ad alti livello perché comunque la sua età ce l'ha e spero che continua però per il resto ragazzi ascoltate bene quel minutino è cosa si diceva giugno adesso è facile fare i fenomeni condividere dei video iscrizione al canale sempre forza inter e un saluto al nostro ilario castagner ciao ragazzi condivisione del video allora ragazzi allora buon weekend buon weekend volevo un attimino mettervi al corrente di come sta procedendo insomma tutta la lavorazione però volevo parlare anche con voi insomma di di mickey tarian che sembra che abbia scelto l'inter voi sapete che poi su un giocatore si va a parlare un po su questo canale si va a parlare un po di più nel momento in cui praticamente ci siamo e quindi siccome la roma aveva fatto una proposta al rilancio c'era un attimino di attesa in realtà mickey tarian sembra che abbia scelto l'inter e io sono contento di questo giocatore perché poi tanta gente quando ha sentito mickey no 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 poi l'infortunio noi ci abbiamo anche scherzato con mano in realtà non era niente di che in realtà i numeri parlano per lui nel senso anche di presenze proprio cioè a livello fisico c'è tanta esperienza classe strappi a centro per giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo quindi tanta roba tanta roba perché insomma che arriva a zero ti arriva mickey tarian l'armeno che va come un treno ed è un'ottima alternativa a brozo dice ma a chiunque nel centrocampo no ripeto aslani mickey tarian devono noi dobbiamo rifare la panchina dobbiamo rifare cioè veramente dovremmo andare a cambiare tipo 8 9 giocatori avevo letto quindi ottimo ottimo mi piace adesso vediamo di quagliare gli altri